Celebriamo il valore della giornata del primo maggio, con necessario anticipo, nel cuore del distretto della meccatronica qui a Reggio Emilia. Dopo l'anno passato a Udine, anticipiamo anche questa volta la celebrazione della festa del lavoro, in un luogo di lavoro che guarda alla innovazione. Una realtà che ribadisce il valore costituzionale del lavoro e che sottolinea al contempo, come esso si confermi, il motore di crescita e della coesione sociale della Repubblica. Il lavoro è indice di dignità perché è strettamente collegato al progetto di vita di ogni persona. E allora, mentre talvolta fiora la tentazione di arrendersi all'idea che possa esistere il lavoro povero, la cui remunerazione non permette di condurre un'esistenza decente, è necessario affermare con forza, invece, il carattere del lavoro come primo elementare modo costruttivo della distribuzione del reddito prodotto.